Ciao ragazzi, oggi vi presento una varietà di plug-in musicali dal suono incredibile e facili da usare. Con questi strumenti potrete creare tracce musicali di qualsiasi genere in modo facile e veloce. Sono disponibili per i principali programmi di produzione musicale come appunto Logic o Cubase. Vi presento subito questa serie di plug-in che sono il Virtual Bassist, Virtual Guitarist, Virtual Drummer e Beatmaker. Io ho già creato delle tracce musicali da farvi ascoltare. Vi faccio sentire la demo. Ho fatto una combinazione con il Virtual Bassist Royal. È un bassista virtuale professionale fingerstyle, perfetto per la musica pop e per il rock. Poi ho aggiunto un chitarrista virtuale Amber che offre oltre 50 suoni di chitarra acustica virtuale con corde in acciaio in diversi stili. Come batteria ho usato il Virtual Drummer Solid e il batterista virtuale ma un compagno di band che tutti vorrebbero al proprio fianco durante le proprie serate e si adatta a tutti i generi. Infine ho aggiunto anche il Virtual Guitarist Iron. È un plug-in adatto soprattutto per il rock con suoni che vanno dal distorto sottile ad un'aggressività furiosa. Adesso vi faccio sentire un frammento che creerò sul momento. La batteria l'ho già preparata. Ho usato il Virtual Drummer Eevee che è un batterista autorevole e potente che si adatta a tutti gli stili di rock. Questo qua ha sia le note singole e sia i vari stili. Trovate tutti i ritmi disponibili. Io ho usato un Latin Rock. L'ho fatto suonare così. Fill. Ritmo con ride. Finale. Adesso vado ad aggiungerci a questo ritmo che ho creato prima il basso. Ho usato un basso Royal che mi piace tanto. Possiamo fare un piccolo giro latino col basso Royal e lo suonerò proprio io nota per nota. Guantizziamo. Sentiamo se suona bene. Perfetto. Mettiamo una chitarra. La chitarra acustica Amber. Ci sono qua tanti stili che potete scegliere. Io ho scelto questo ritmo. Sentite che bello. Adesso proviamo a inciderlo. 1, 2, 3, 4. Lo mettiamo a tempo e ve lo faccio sentire. Sentite? Tutto insieme. Vi faccio sentire altre tracce che ho combinato per voi. Ho usato il bassista virtuale Rob Dye. Offre suoni di basso elettrico overdrive che vanno dal punk al rock al metal moderno. Ho usato il virtual guitarist Carbon che si adatta per colonne sonore di giochi e colonne sonore di film. Ma anche per dare un tocco in più alla musica elettronica e al pop. Come batterista ho usato il virtual drummer heavy. Sentite insieme come suonano. Infine vi presento velocemente il Beatmaker Eden che sono dei plug in per beat e groove elettronici. Molto belli. Una batteria per brani dance edm per creare il vostro tormentone estivo. E qua possiamo scegliere il genere. Ma abbiamo anche i singoli strumenti. Basta andare giù di ottava. Da qua possiamo scegliere il timbro dello strumento. E poi vi presento un altro Beatmaker Void. Sound dance. Il timbro del kit. Possiamo cambiare il timbro. Cambiamo genere. Cambiamo kit. E anche qua abbiamo gli strumenti singoli. Potrete acquistare il pacchetto che vi piace dal sito www.ujam.com Ve lo sottolineo qua. E trovate tutti i plug in che vi piacciono. Il Beatmaker che abbiamo appena sentito. Il batterista virtuale. Il bassista. Il chitarrista. E anche gli elementi sinfonici. Ringrazio la ditta UJAM per la preziosa collaborazione. E vi aspetto alla prossima recensione. Ciao! Ciao!